Bene, grazie di essere venuti, è un momento molto bello questo speciale per me, ma prima di iniziare volevo fare un omaggio a una persona senza la quale io non sarei qui questa sera. L'autista del 46 barrato, l'autobus che porta in stazione. Ho fatto un viaggio con lui e ho cercato di mettere in divina commedia tutto il suo amore verso i passeggeri, verso il traffico, è lui che parla in divina commedia. Pezzo. Guardate la targhetta o voi che entrate. V'è scritto che il mestiere del conducente non è quel da ascoltar vostre minchiate. O massa di maialchi amata gente, grappata a yurichechi camaniglia. Yurichechi camaniglia che ignora il neutro roberts detergente. Buonino ragazzi. Perché ad ogni buca che si piglia, invece di ingiuriare chi amministra, voi sempre sfanculiate mia famiglia. Io son traghettator caronte autista e se veggio qualche dunque borseggiato, mi faccio i falli miei, vo per mia pista. Ma a un tratto, un vecio in panda, cappellato, tagliommi la corsia e tiro il freno ed anca un bestemmion polifonato. Si indigna ricca sciura al grido sceno. Ma è il caso bestemmiare? È guidatore. O dama che del fallo fai a meno. Vedo che le finezze non vi sfugono. Nel fallo fai a meno. Bombata in botulinico ripieno. Chi ha i seno ormai strusciante sul terreno. Se vuoi vivere di più e inquinare meno, non romperci i coglioni e prendi il treno. O autobus. A questo ti fa ridere? Bello. Uno si sbatte a scrivere. O autobus. Stasera degenera, eh? Preparate mestier che fa sclerare. Ottore di marronio sobalzare. E son ferma da mezz'ora da aspettare. E poteva far marchette a rotondare. Partenza, capoline, ritornare. E dentro l'estate devo pisciare. Vorrei a quel paese voi mandare. Usando la corsia preferenziale. U A presto